per tutti. Porsi questo obiettivo dal mio punto di vista è anche in modo più concreto per celebrare le due importanti ricorrenze che cadono proprio quest'anno e che venivano una veniva ricordata, i vent'anni del nostro partenariato strategico globale e i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo a cui dobbiamo le fondamenta sostanzialmente più profonde nei legami tra i nostri due popoli. Gli antichi rapporti tra Italia e Cina sono caratterizzati da una cooperazione economica e commerciale molto significativa, una dimensione strategica che dobbiamo continuare a coltivare anche e soprattutto di fronte alla complessa situazione internazionale nella quale ci troviamo. Penso chiaramente all'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, penso alla crisi in Medio Oriente, penso alle tensioni nel Mar Rosso, all'instabilità crescente in Africa, sono tutte crisi che rimettendo in discussione l'ordine internazionale basato sulle regole si ripercuotono inevitabilmente anche sulla sicurezza e sull'integrazione economica globale e queste crisi insieme allo shock della pandemia ci hanno posto di fronte anche agli effetti collaterali della globalizzazione ai rischi legati al fatto di avere catene di approvvigionamento globali, perché se è vero che l'economia mondiale molto ha beneficiato dalla liberalizzazione dei commerci è anche vero che i dividendi di questo processo non si sono sempre distribuiti in maniera equilibrata, non si sono distribuiti in maniera equilibrata tra i diversi fattori di produzione all'interno di ciascuna nazione.